Avvocato da oltre 40 anni, quindi è un avvocato esperto, è stata componente dell'Osservatorio Nazionale sulla Sicurezza e consulente di ambasciate e di associazioni concernenti varie etnie. Restate con noi. Spazio scenico, puntata numero 410. La protagonista di oggi è Iginia Piatti, avvocato. Ben arrivata Iginia. Grazie. Tu sei avvocato? Sì, sono avvocato dal 41280, sono iscritta nell'albo degli avvocati di Roma, del Consiglio dell'Ordine di Roma. Mi occupo di vari problemi riguardanti la materia del diritto civile, c'è un ampio spazio per quanto riguarda questa materia perché comprende anche la soluzione di problemi relativi al diritto condominiale, al diritto delle locazioni. Quindi il diritto civile comprende molte branche del diritto. Molto ampio, molto ampio. Il diritto di famiglia anche, mi occupo di ricorsi per separazioni. Che differenza c'è tra il diritto civile e il diritto penale? Il diritto civile si occupa dei rapporti che investono la sfera dei privati sul piano civilistico. Mentre il diritto penale riguarda la materia concernente i reati, i crimini. Ecco, quindi è una cosa ben diversa. Le fattispecie civilistiche sono disciplinate nel codice civile e le altre penali sono disciplinate dal codice penale. E i rispettivi riti nei codici di procedura penale e nei codici di procedura civile. Si differenziano, si differenziano. C'è una materia particolare che ti appassiona di più tra tutte quelle che hai detto all'interno dell'ambito civilistico? Il diritto di famiglia mi interessa in modo particolare il diritto anche riguardante i minori perché ci sono casi molto delicati soprattutto nella sfera di questa branca del diritto. Quello dei minori? Dei minori, infatti ho vari casi riguardanti i minori che purtroppo sono collocati in strutture riguardanti i casi famiglia. Quindi per delle situazioni molto conflittuali familiari purtroppo. Quando c'è un conflitto tra i coniugi può accadere che i bambini piccoli vengano collocati in casa e famiglia. Collocati su decisione di chi? Sono collocati diciamo su decisione perché in questo caso intervengono i servizi sociali e i servizi sociali poi debbono relazionare e quando c'è una procedura in corso presso il tribunale civile debbono relazionare al giudice. Una procedura all'interno di una separazione oppure anche di altro tipo? Una procedura all'interno di una separazione e anche non separazione in una situazione di fatto quando praticamente scaturiscono delle problematiche da situazioni di fatto, da convivenze. Allora in questo caso possono sorgere dei problemi seri per quanto riguarda i bambini e la situazione dei minori. C'è un caso particolare che ti ha colpita? Sì, il caso di bambini che purtroppo sono stati collocati ingiustamente in strutture quali case e famiglia e quindi praticamente erano lì e soffrivano molto. Poi attraverso il mio intervento sono riuscita a farli uscire, a farli rientrare nel nucleo familiare dove hanno sempre vissuto, dove hanno trovato il loro focolare domestico, il centro dei loro affetti. Ecco, e quindi finalmente ho avuto vittoria in questo campo e per me è stata una grande soddisfazione. Tu ci stai parlando di un caso specifico, anche se non vogliamo nomi adesso. No, 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 anche di vari casi dove hai avuto la soddisfazione di riportare i bambini all'interno delle loro famiglie. Soffrivano perché magari sono stati sottratti all'affetto dei loro genitori. Eugenia vorrei capire una cosa, ma che significa sottratto? Cioè chi ha sottratto, non avrebbe, chi ha sottratto il bambino alla propria famiglia? Può capitare magari che venga sottratto per delle controversie che avvengono tra i coniugi oppure tra i rispettivi genitori. Quindi una lite che si innesca all'interno della famiglia comporta l'intervento. Ci sono delle situazioni conflittuali tra i genitori, per cui attraverso l'intervento dei servizi sociali si decide di collocare magari provvisoriamente i minori quando purtroppo esistono nella realtà. Perché poi io dico purtroppo in quanto loro soffrono. Questo è il punto fondamentale. Cioè il bambino che viene allontanato da casa soffre. Soffre, giustamente soffre, ecco perché magari vuole stare con il rispettivo genitore con il quale ha sempre vissuto. Però, ripeto, quando sorgono questi problemi, nell'ambito della famiglia, allora poi oltre ai servizi sociali viene a volte nominato durante la procedura un CTU che... CTU significa Consulente Tecnico d'Ufficio. Che nomina quindi il giudice? Che viene nominato, sì, dal tribunale, su richiesta di una delle parti, naturalmente. E quindi in questi casi si decide di allontanare magari provvisoriamente il bambino dall'ambiente familiare. La decisione però spetta al giudice. In questo caso la nomina del CTU, ecco, viene fatta, viene, diciamo, decisa durante la procedura dal tribunale. Sì, però la decisione di portare il bambino, di trasferire il bambino da casa alla struttura protetta, chiamiamola così, spetta comunque al giudice. Beh, al giudice che fa riferimento però alle relazioni dei servizi sociali. E quindi si fida della relazione dei servizi sociali del Consulente Tecnico d'Ufficio. Questo dipende, ecco, dal giudizio che viene emanato dai servizi sociali. Quindi questo è molto importante. Tu mi dicevi poco fa di casi in cui ritieni che questi allontanamenti siano stati ingiusti, è così? Sì, sì. Purtroppo in passato mi è capitato, ecco, di avere dei casi in cui ho visto l'ingiustizia, l'ingiustizia proprio. Ma il giudice che allontana il bambino e lo manda in una casa famiglia, ad esempio, poi ogni tanto va a trovarlo per rendersi conto di come sta? Ma diciamo che il giudice non va. In questo caso ci sono, vengono stabiliti degli incontri, incontri sotto naturalmente la sorveglianza, dei servizi sociali, quindi incontri tra i genitori e i bambini. Io dicevo, ma se il giudice lo allontani il bambino, perché ogni tanto non va a trovarlo per vedere se sta bene? Cioè non ci va direttamente. Comunque il giudice deve ricevere le informazioni da parte degli operatori sociali per poi emettere la sua decisione. Questo l'ho capito, sono riuscito a comprenderlo. Perché non va direttamente? Trattandosi di una materia così delicata, trattandosi del sentimento dei bambini che vengono portati via da un ambiente familiare ad un'assuntura estranea, potrebbe magari prendersi la briga di non va. In questi casi l'affidamento è attribuito al servizio sociale, che ha una responsabilità, la responsabilità di seguire e di monitorare l'andamento che esiste nell'ambito della struttura. E non ti sembra strano che questi bambini soffrano? Non dovrebbero soffrire però, se è vero che sono collocati... Sì, soffrono perché naturalmente escono dall'ambiente familiare, dall'ambiente in cui hanno sempre vissuto. Ma allora non sarebbe stato meglio lasciarli lì? Se soffrono... Eh, ho capito, però se a volte sorgono dei problemi nell'ambiente familiare... Comprendo. Non c'è altra soluzione, purtroppo, ecco, di collocarli in una casa famiglia. E poi naturalmente ci sarà, durante il corso della procedura, si arriverà, ecco, si arriverà ad una decisione. Io so di genitori che però fanno poi molta, molta fatica a incontrare i loro ragazzi. Beh, quando... in che senso? A incontrare, a stabilire una relazione, mentre stanno nelle case famiglia. Cioè, è molto complicato per il papà o per la mamma relazionarsi con loro, quindi questi poveri bambini... Sì, sì, è vero. Quando ci sono queste situazioni così, ecco, gravi, conflittuali, è molto spesso. Però, insomma, l'intervento poi dell'avvocato è veramente importante in questo caso. E tu in qualità di avvocato puoi anche incontrare i bambini oppure no? Sì, beh, diciamo che i bambini... io faccio sempre riferimento ai servizi sociali, ecco, ho un contatto diretto perché, logicamente, devo vigilare, ecco, su queste... No, dicevo, tu puoi andare in casa famiglia, bussare e vedere il bambino? Sì, perché no. La legge te lo consente? Certo, certo, perché no. Sì, 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 è capitato. E puoi farlo sempre oppure hai bisogno di un'autorizzazione particolare? Beh, certo, devo essere autorizzata dalla responsabile della struttura, certo. E l'avvocato può avere un colloquio diretto col bambino oppure deve essere sempre presente un assistente sociale o un delegato del giudice? Guarda, in questi casi praticamente non c'è necessità, ecco, di parlare con il bambino. La cosa importante è parlare con i servizi sociali perché sono loro che poi devono relazionare e quindi l'avvocato deve seguire, ecco, ciò che praticamente scrive, ciò che relaziona il servizio sociale e se c'è qualcosa che praticamente è negativo deve sollevare questa eccezione. Anche nel caso di una CTU, se ci sono dei punti che sono poco chiari, ecco, può l'avvocato al dovere di esprimere delle critiche e quindi di intervenire in questo caso. Eugenia, siamo a pochi secondi, a 45 secondi in questo momento dalla chiusura. Siamo rimasti fermi su questo punto, avremmo potuto parlare di tante e tante altre cose, ma siamo rimasti fermi sui minori. Sì. Ecco, un tuo auspicio, perché so che questo dei minori, sappiamo tutti, che questo dei minori è un tema di sofferenza inaudita. Certo, certo. Ecco, anche un tuo suggerimento. Il mio suggerimento è che praticamente attraverso la buona volontà delle persone, io in questo caso penso attraverso la buona volontà dei genitori, molto spesso si potrebbero evitare queste situazioni, perché bisogna pensare soprattutto all'equilibrio psico-fisico dei bambini, perché i bambini poi, quando soffrono in tenera età, purtroppo durante il corso della loro vita risentono molto, ecco, di queste situazioni negative, subiscono dei grossi traumi e quindi io cerco sempre, ecco, di intervenire in loro favore, perché è una questione anche di sensibilità umana, soprattutto. Quindi il conflitto tra i genitori spesso può svociare in danni enormi per il bambino. Io cerco sempre di richiamarli ai loro doveri, ecco, genitoriali, soprattutto nei confronti dei minori, ecco, perché questo è veramente molto grave, molto grave. Iginia, io ti ringrazio, la puntata è stata interessantissima, come hai visto è volata via, perché quando si parla di bambini tutto vola via. Ecco, a me ha fatto piacere, ecco, questa intervista, parlare di questa, di situazioni che veramente molto spesso mi colpiscono, ecco, e quindi per me è stato un motivo, insomma, di esprimere le mie opinioni in merito. Amici di Spazio Scenico, la puntata termina qui, alla prossima. Spazio Scenico, la puntata termina qui, alla prossima.